fratelli nerazzurri amici di facebook youtube e instagram buongiorno a tutti un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon sabato ragazzi allora mister mattutino ieri abbiamo fatto una bella live e sono le live che mi piacciono perché poi alla fine ci siamo ritrovati a parlare di cartoni animati insomma poi ho detto insomma che mi sarei alzato presto sono andato a correre infatti porto già porto già i segni perché sono andato a correre presto perché sta facendo troppo caldo sembra luglio però c'è vento cioè quindi questo vento questi giorni qua che c'è un sole della madonna 30 31 gradi però si alza anche il vento ma certo più l'aria condizionata in macchina morale della favola sono tornato a casa finito l'allenamento e ho colazionato con caffetta kipirina mille che mi sistema un po ecco però però tutta salute tutta salute perché insomma poi ripeto la quando si va al mattino ancora più bello cioè se va il venerdì sera dopo una settimana se distrutto ma il sabato mattina la domenica mattina secondo me la più bella detto questo ragazzi ne ho parlato anche ieri sera in live perché ovviamente poi tanti mi hanno chiesto ma io già avevo pensato di dire qualche cosa però voglio ribadire qualcosa oggi nel mio video e mi un saluto per per dario calbi per darione che ci ha lasciato qualche giorno fa io quando ho saputo ieri la notizia pensavo fosse un bruttissimo scherzo perché purtroppo succede con gli attori famosi succede che ogni tanto l'abbiamo visto no in questi anni quindi in realtà no in realtà no darione 40 anni cuore nero azzurro io di persona non l'ho mai conosciuto quando mi sono messo in gioco sei anni e mezzo fa che ovviamente lo dico sempre mi sono messo in gioco perché vi di donato inglese di si cazzo mi piace questa cosa qui posso parlare anch'io dell'inter magari con qualche imitazione da lì nacque tutto poi però c'era fabio bergomi ho iniziato a seguire pure lui che faceva mi sembra era le telefonate no con con dario calbi quindi ogni tanto ascoltavo poi ho avuto il piacere di conoscerlo via live insomma su 5 6 live ci siamo incrociati con dario le prime mi sembra inter for passion poi in giro quella insomma anche il radio da sergio se non ricordo male adesso non vorrei dire una cazzata perché insomma di cose ne sono state fatte in sei anni però quello che posso dire che io con lui non ho mai avuto problemi da quello che so lui ha sempre parlato bene di me e io devo dire che è sempre stato piacevole parlare con lui dell'inter perché a è uno che comunque ne sa di calcio e anche di campo di calcio giocato b perché era un piacere ascoltarlo con ogni tanto se se ne usciva con un po di supercazzo le perché era bravissimo nel lessico e quindi ti intortava con le parole era bravo dario in questo però era un cuore nero azzurro ed era un piacere sentirlo parlare dell'inter era piacevole e poi veniva fuori insomma anche la sua natura argentina e quindi il mio mio abbraccio va alla famiglia di dario e mio saluto va va a darione che adesso è lì su con peppino e con giacinto insomma è un po di ragazzo e omar e omar perché proprio settimana scorsa avevamo salutato con lucrezia che aveva montato un bel video in omaggio di omar un ragazzo degli all fans che anche lui ci ha lasciato troppo presto quindi un abbraccio a entrambe le famiglie e mi sembrava anche doveroso perché insomma oltre alla live ieri ripeto se volete andarla a vedere però una questa intro di questo video insomma doveroso perché poi ripeto io me la sto prendendo tanto in questi giorni con attacchi gratuiti con minacce qualche mese fa minacce di morte appunto con poco tempo fa pochi giorni fa gli auguri di malattie le più peggiori malattie e quindi insomma poi quando senti queste cose poi ribadisco io vengo negli ultimi due mesi ho avuto due lutti veramente vicini e poi due persone altre due che conoscevo quindi il giro di tre mesi e vedo che la gente parla di morte parla di queste cose così tanto si scrive lo si prende a ridere poi però c'è la realtà e queste cose succedono davvero quindi il mio abbraccio va ripeto alla famiglia di Dario detto questo ragazzi la nord ha fatto un comunicato c'è sull'urlo della nord io adesso ve lo leggo san siro sia un muro di nero azzurro domani in occasione dell'ultima giornata di campionato vogliamo tutto lo stadio colorato di internazionale invitiamo tutti gli interisti a dipingere il meazza indossando la nuova maglia della curva già proposta a roma per la finale di coppa italia domani nuovamente disponibile in una nuova versione aggiornata oppure la prima maglia della squadra quindi come si era detto appunto nella live della nord in preparazione per la trasferta di roma festeggiamo esaltiamo il nostro orgoglio non molliamo sopra ogni cosa dimostriamo che siamo più forti che siamo più forti noi questo è per dire che la nord scrive festeggiamo esaltiamo il nostro orgoglio cioè mi sembra di vedere come dicevo l'altro ieri in ufficio lo dicevo non vedo perché la nord debba contestare o debba fare chissà che cosa cioè dopo un'annata comunque così sarà lì ancora incitare l'inter deve fare il suo però come vedete forse le contestazioni erano giuste in altri anni no e sono state fatte sono state fatte in modi perché la gente parla 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 scrive 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 ripeto ho fatto un titolo l'altro giorno uno mi ha scritto dovete andare con i pomodori a san siro ma facci tu ma facci tu che se adesso mandi a fare in culo uno stuart ti becchi il daspo momenti praticamente ci sei uno stuart che magari ti fa anche il milano la juve se ne frega un cazzo solo perché c'è quella pettorina e si crede chissà chi e magari ti deve rompere il cazzo perché a me è successo quattro anni fa finché ero nei templari per quello mi sono spostato anche al primo verde perché non ci avrebbero fatto fare più il tifo anche lì ci avevo visto abbastanza lungo gli dissi a pietro pietro non sarà più così pietro ancora adesso sta combattendo questa storia perché non gli vogliono far più tirare su neanche lo striscione a momenti quindi ma per questa cosa qui ne parleremo poi la prossima stagione perché voglio dargli una mano in qualche modo nel mio piccolo quindi dicevamo chiunque abbia una maglia una prima maglia possibilmente con le strisce nero azzurre ecco nero blu si chiedeva comunque anche la prima di quest'anno va benissimo a proposito di maglie ragazzi volevo chiudere con il video con con due discorsi sono uscite le nuove maglie sono uscite ho già visto qualcuno che ha fatto dei video ho visto dei post ho visto gente che ma ripeto io feci un video sulla prima maglia che questa che sta girando tre mesi fa almeno cioè ancora col vecchio canale e poi c'era la possibile terza maglia che era gialla tipo la famosa maglia di quando c'erano gli haici e gli oviti ci vi ricordate io feci un video mostrando quelle due maglie adesso è venuta fuori la seconda che devo capirla bene un ragazzo ieri mi ha scritto sembra un libro di geografia perché sembra una mappa geografica non lo so per la prima maglia qualcuno è dicevo qualcuno è contento qualcuno no io devo essere sincero voi sapete io sono fissato con sto blu cioè l'azzurro com'è l'azzurro è azzurro il blu è troppo blu scuro perché quando l'ultima anno l'ultimo anno di zanetti quel blu scuro a fianco al nero sudato diventava nero non mi piaceva affatto mi ricordo che la maglia che ci ha fatto vincere lo scudetto quella zig zag ok quando la vedi la prima volta era una foto perché poi ogni foto alla sua alla sua luce no cioè l'azzurro cambia da ogni foto finché non la vedi dal vivo io mi ricordo che non andai appositamente però mi trovai in san babila per un rogito e cazzo ero lì vado a vederla dal vivo e feci un video se vi ricordate incontrai anche toldone mi feci la foto con toldone che rideva cazzo lì adesso non riuscivo a riprendere troppo alto e vi dissi cazzo ma che bello azzurro mi piace molto l'azzurro sì poi lo zig zag parliamone però questo è un bello azzurro che spicca quindi a voglio capire che che tonalità ha quel blu perché io ho visto delle foto dove mi sembra bellissimo delle foto dove mi sembra un po scuro le righe le righe sono sono larghe c'è quella parte che fa qui così diciamo che vista senza una la si è vista solo con la coccarda della coppa italia una la si è vista solo con digital beat secondo me bisognerebbe vederla la prima maglia attenzione perché quello di quella sto parlando l'altra devo vedere voglio vederla indossata possibilmente dal vivo quindi se vado a vederla davanti a un manichino con la luce giusta mi posso rendere conto di tante cose e poi comunque ripeto adesso in settimana facciamo finire il campionato poi andremo a vedere le nuove maglie le nuove maglie andremo a parlarne ultima cosa ragazzi mi sento di fare un appello un appello a totti ma devo fare i cazzi tua cioè totti che mo deve andare a cagar cazzo di bala mo ci penso io a riga mo ci penso io ve porto di bala a roma ma fate i ragazzi due a totti ma lascialo stare di balino se vuole venire all'inter cioè perché io tanta gente lo da per fatto io ancora sto dicendo ho detto come lo accoglierei io perché a me piace di bala al me cioè ripeto perché poi magari qua arriva qualcuno dice a no no perché l'ho detto in altri video ma lo ridico se di bala prende solo il posto di sanchez nel senso quello deve essere no di bala a posto di l'auto alba però totti siccome c'è sta partita sa che cazzo devono fare lunedì si incontrano ha detto ma ci penso io ci parlo io di bala totti fatte di cazzi tu te prego dai su di bala lascia la juve che gioca la champions e tutto cazzi e mazzi ma con tutto rispetto c'è un sacco di amici a roma ma va alla roma con che cazzi di stipendio che voleva per andare a giocare l'europa league non lo so non la vedo però se gli piace la carbonara vedremo insomma a totti non c'era un percazzo dai fallo venire all'inter c'è già tony abraham come chezzo si chiama ecco a proposito di questo a proposito di questo oggi ho scritto ho scritto oggi ho commentato un post a un personaggio perché veramente cioè chiamiamolo dissing sì vediamo questo qua è un dissing questo è un dissing che gli faccio questo personaggio perché non lo sopporto più perché lo seguo ormai da quando sono arrivati gli zang allora c'era lui poi c'era il compagno di merenda che stavano sempre insieme che hanno sempre buttato merda sulla famiglia zang adesso viene fuori per questo qui no come gli ho scritto ma se scorregge il papa è colpa di zang poi un sacco di epiteti un sacco di veramente cioè vattene buffone pagliaccio scritte dette di tutti i colori personaggio che che va in tv non so se ci va ancora in tv pernacchia è pernacchia il cognome diciamo così pernacchia chiamiamolo così perché se le merita le pernacchie perché che cazzo di tifoso è questo qui questa è gente che ce l'ha a prescindere con i cinesi capite e quindi alla minima cosa è colpa è solo colpa di zang ossessionato da zang quindi oggi gli ho commentato il post vediamo se risponde pernacchia è un po che non lo vedo in tv e mi fa felice sta cosa forse si sono un attimino accordi che stava esagerando no perché solo in questo anno si doveva beccare il minimo 15 20 querele quindi gli ho scritto gli ho scritto guarda quanto sei ossessionato a l'ho scritto quest'estate se noi prendevamo come cazzo si chiama vincevamo lo scudetto e minchia l'ha detto l'estate scorsa l'ha detto ragazzi ma di cosa stiamo parlando è la sfera magica mica come il pirla che dice le cose 4 5 anni prima due o tre anni prima l'estate scorsa l'ha detto sì siamo tutti convinti sia col senno di poi e quindi niente buffone dovevi prendere abra no gecko hai capito e allora oggi mi sono permesso di iscriverli al signor pernacchia e vediamo se risponde condivisione del video iscrizione al canale e sempre forza inter ragazzi ci aggiorniamo per i prossimi video mancano sempre meno ore ciao